Passaggio di consegna all'Ordine Provinciale degli Ingegneri di Agrigento. L'ingegnere Alberto Avenia ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica e il Consiglio, dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro svolto, ha eletto all'una limità presidente dell'Ordine Calogero Zicari, attuale sindaco di Real Monte. Ascoltiamo prima Zicari e poi Avenia. Io penso di andare avanti in continuità con quello che è stato il lavoro svolto prima dall'ingegnere Armenio e poi dall'ingegnere Avenia, eseguendo la stessa linea che loro già hanno tracciato a ragione. È necessario un impulso ai liberi professionisti perché c'è tanto bisogno del territorio, sia il territorio come infrastrutture, ma sia anche come attività lavorativa dei liberi professionisti. Noi siamo una categoria che può dare tanto impulso all'intera provincia e anche oltre, che spesso non è utilizzata al meglio dando il massimo di quello che potrebbe fare. Io credo che bisogna incentivare l'attività degli ingegneri, portarla all'attenzione della comunità intera e fare in modo che possano dare un serio contributo per la crescita dell'intera provincia di Agrigento. Devo ringraziare il Consiglio, sia del Consiglio attuale che del Consiglio precedente, per quanto riguarda la collaborazione e tutto quanto mi ha dato in questa presidenza. La precedente è quella del nuovo Consiglio. Sono stati anni in cui abbiamo lavorato per far arrivare alla gente e alle istituzioni la presenza di noi professionisti ingegneri in un territorio molto ma molto difficile, sia da un punto di vista burocratico e normativo che da un punto di vista prettamente territoriale, con tutti i rischi del territorio in cui viviamo. Spero di aver svolto i compiti che mi sono stati affidati dai consiglieri in maniera chiara, semplice e attuativa. Spero di aver servito bene tutti gli iscritti, il Consiglio dell'Ordine e l'Ordine stesso che ho avuto il piacere di presiedere in questo periodo. Per quanto riguarda le prospettive, io sono sempre un ottimista, quindi vedo sempre il bicchiere mezzo pieno e di conseguenza la nuova presidenza di Lillo Zicari saprà sicuramente risolvere alcune problematiche inerenti alla professione e principalmente i servizi e il lavoro che deve svolgere l'ingegnere in questa provincia molto o molto difficile.